Che cosa è la speranza cristiana? A cosa mira? E quali sono i mezzi che il nostro Signore ci ha promesso per realizzarla? E' quello che vedremo oggi con base al Catechismo Popolare di Padre Francis Spirago. Buongiorno, mi chiamo Sommel Emaniscalco, benvenuti nel canale, i angeli sono con noi. Buongiorno cari amici, oggi parleremo della speranza, della felicità eterna e dei mezzi che il nostro Signore ci ha promesso per conseguirla. Scopo delle nostre conversazioni è infatti quello di conoscere sempre meglio le verità eterne e imparare come gli angeli possano aiutarci nella lotta contro i nemici della nostra salvezza. E se fate mente locale, certamente vi ricorderete che alla fine del simbolo degli Apostoli, che ogni domenica recitiamo nella Santa Messa, si nominano i beni in cui non solo crediamo, ma in cui dobbiamo anche sperare. Ricordate le parole esatte? Aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Nostro Signore però non solo ci ha promesso questa felicità eterna, ma anche i mezzi per conseguirla. Ma che cos'è la speranza cristiana? Perché è da qui che dobbiamo iniziare per poter capire meglio di cosa stiamo parlando. Ma prima vorrei chiedere a chi ci segue per la prima volta di cliccare sul pulsante iscriviti e di attivare la campanella. In questo modo verrete automaticamente informati sui nostri video futuri e non vi perderete nessun episodio di questo apostolato. E a tutti vorrei ricordare di mettere il vostro mi piace cliccando sul pulsante con il pollice in su. Fatelo adesso oppure alla fine di questo video. Ma fatelo, è importante per la reputazione del canale. Dunque, che cos'è in parole povere la speranza cristiana? Rispondo, essa è l'attesa fiduciosa di tutte le cose buone che Gesù Cristo ci ha promesso per il compimento della volontà di Dio. La speranza è quindi da un lato un desiderio certo, l'attesa di un bene per l'appunto promesso. Dall'altro è la fiducia, la fedele convinzione che Dio sarà fedele alla sua parola. Vedete, la speranza è come un telescopio che avvicina ai nostri occhi gli oggetti più lontani, ci rende presenti i beni celesti e ci dà gioia, tanto che San Paolino di Nola ci dice attraverso la speranza abbiamo un'anticipazione delle gioie del paradiso. La speranza cristiana può anche essere chiamata santa, perché ha come oggetto Dio e i beni soprannaturali, come ci insegna San Paolo all'inizio dell'Epistola ai Colossesi, proprio all'inizio del capitolo 3, quando dice se dunque siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove si trova Cristo assiso alla destra di Dio. Questa speranza non è vana, perché in cambio del compimento della volontà divina, Gesù Cristo ci ha promesso la felicità eterna e ci ha dato i mezzi per raggiungerla, che sono la grazia divina, i beni temporali, essenziali per la vita, il perdono dei peccati, l'aiuto nel momento del bisogno e l'accoglienza favorevole delle nostre preghiere. Gesù Cristo ci ha infatti espressamente promesso la felicità eterna. Nella casa del Padre mio ha detto ci sono molte dimore e io vado a prepararvi un posto. Ciò l'assicura poi nella parabola del banchetto di nozze o anche in quella degli operai nella vigna. E ci ha anche promesso la risurrezione dei corpi, tanto da dirci verrà l'ora in cui tutti coloro che sono nei sepolchi udranno la sua, sta parlando di se stesso, udranno la sua voce e ne usciranno. Ora nostro Signore ci ha anche promesso la sua grazia, cioè l'aiuto dello Spirito Santo per raggiungere questa felicità, poiché Egli vuole che tutti gli uomini siano salvati e arrivino alla conoscenza della verità. E la grazia è assolutamente necessaria per la salvezza, per entrare in paradiso. Gesù promette questa grazia al peccatore nella parabola della pecorella smarrita. Il Signore però ci ha promesso anche i beni temporali indispensabili alla vita, tanto da dire non affannatevi dunque dicendo che cosa mangeremo, che cosa berremo, che cosa indosseremo. Di tutte queste cose si preoccupano i pagani. Il Padre vostro celeste infatti sa che ne avete bisogno. Egli ci mostra con l'esempio degli uccelli del cielo nutriti da Lui, dei gigli e dell'erba dei campi da Lui vestita, che Egli si preoccupa ancora di più degli uomini. Pensiamo appena alla vita dei Santi. Più di una volta si sono trovati in situazioni molto difficili, mancavano di cibo, riparo, vestiti e così via. Forti della promessa di Dio non hanno avuto paura e l'aiuto divino non è venuto meno. Gesù Cristo ci ha promesso pure il perdono dei peccati se ci convertiamo e modifichiamo le nostre vite. Egli dice ci sarà più gioia in cielo per un peccatore che fa penitenza che per 99 giusti che non ne hanno bisogno. E Sant'Agostino, forte di questa misericordia divina, commenta Dio non si preoccupa tanto di ciò che l'uomo ha fatto, ma di ciò che è disposto a fare. Pensiamo qui al ladrone sulla croce che ottenne il perdono nell'ultimo istante della sua vita. Oltre a tutto ciò, il Signore ci ha promesso aiuto anche nel momento del bisogno. Quando in mezzo alla tempesta gli apostoli tremarono, Gesù li rimproverò e disse loro, di che cosa avete paura, uomini di poca fede? Il Salmo 46 in questo è chiaro, dice, Dio è per noi rifugio e forza, aiuto sempre vicino nelle angosce. Egli però non viene subito ad aiutare nelle afflizioni ed a volte ritarda il suo aiuto, come in occasione delle nozze di Cana, dove disse, non è ancora giunta la mia ora. Lui stesso comunque ha promesso di rispondere alle nostre preghiere affermando, se chiederete qualcosa nel mio nome, io ve la darò, ed anche qualunque cosa chiederete al Padre mio nel mio nome, egli ve la darà. Adesso, qual è la radice della speranza? Essa nasce dalla fede. La fede stabilisce l'esistenza dei beni e la possibilità di averli. La speranza ce li fa desiderare e attendere. Questo perché siamo convinti che colui che ci ha proibito la menzogna è lui stesso incapace di ingannare, per cui dice San Paolo, restiamo saldi nella professione della nostra speranza perché colui che ci ha promesso è fedele. Siamo anche più convinti che Dio, al quale nulla è impossibile, sia abbastanza potente da adempiere la sua promessa, come ci ricorda l'Epistola ai Romani in cui San Pietro rammenta che Abramo ebbe fede sperando contro ogni speranza e così divenne padre di molti popoli, come gli era stato detto. Crediamo pure che Dio, che amore, dia anche più volentieri di quanto riceviamo e che Gesù Cristo, con il suo doloroso sacrificio, abbia meritato per noi la felicità eterna e i mezzi per raggiungerla. Sant'Agostino osserva «Non potevo, a causa della grandezza dei miei peccati, sperare né nel perdono né nel paradiso, ma oso sperare, per i meriti di Gesù Cristo, di essere salvato con la penitenza e l'osservanza dei comandamenti». Questa ferma convinzione che Dio sia sommamente fedele, potente e buono, che Cristo ci abbia meritato ogni bene, si chiama fiducia in Dio. Questa virtù è la radice della speranza. Quanto più vigorosa è questa radice, tanto più salda è la nostra speranza. Questa, ad esempio, fu la virtù della donna malata che toccò la frangia della veste di Gesù per essere guarita e alla quale il Signore disse «Coraggio, figliola, la tua fede ti ha guarita». Ed in quell'istante la donna guarì. Ora, i beni promessi del Gesù Cristo possono essere sperati solo dal fedele osservante dei comandamenti o dal peccatore pentito. Leggiamo nel Vangelo di San Matteo «Non chiunque mi dice Signore, Signore, entrerà nel Regno dei Cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei Cieli». I peccatori possono sperare in Dio solo quando si pentono seriamente delle loro colpe, altrimenti è presunzione. Ma se l'Empio fa penitenza per i suoi peccati, e qui il sacramento della confessione è importantissimo, se l'Empio fa penitenza per i suoi peccati ed esercita la giustizia e la rettitudine, Dio dimenticherà le sue iniquità. Ascoltate a questo proposito le belle parole che Dio rivolge al profeta Ezechiele e dice «Ma se il malvagio si ritrae da tutti i peccati che ha commessi e osserva tutti i miei decreti e agisce con giustizia e rettitudine, Egli vivrà, non morirà. Nessuna delle colpe commesse sarà ricordata, ma vivrà per la giustizia che ha praticata». Vi chiedo adesso, sapevate queste cose? Io credo di sì, ma forse le avevate dimenticate o era da molto che non ci pensavate. Eppure dovrebbero essere il centro dei nostri pensieri, la nostra principale preoccupazione su questa terra. Ecco allora l'importanza di questo canale della cui esistenza non smetterò mai di ringraziare i membri del gruppo Apostoli dei Santi Angeli che lo rendono possibile. Se tra chi mi ascolta bene fosse qualcuno che non sa di cosa sto parlando, per favore clicchi sul link qui sotto oppure qui in alto a sinistra. Troverete una spiegazione in merito e l'enumerazione dei numerosi benefici spirituali che riceve chi ne diventa parte. Ma torniamo al tema di oggi. La speranza, e qui qualcuno storcerà il naso ma non posso farci nulla, la speranza, dice Santa Brigida, è un abito con due maniche. Una è la fiducia nella misericordia di Dio, l'altra è il timore della sua giustizia. Dio vuole che noi lavoriamo alla nostra salvezza con timore e tremore, come ci insegna l'Epistola ai Filippesi, anche perché nessuno può essere sicuro di appartenere al numero degli eletti o di perseverare nella grazia fino alla morte. Alcuni uomini, favoriti dall'ispirazione divina, come Salomone, sono diventati empi in vecchiaia, mentre peccatori come Maria Maddalena o Agostino sono diventati grandi santi. Anche gli angeli sono caduti molto in basso e sono stati riprovati in eterno. Il Santo Vangelo in questo è chiaro quando dichiara chi crede di stare in piedi, guardi di non cadere. Questo lo potete leggere nella prima Epistola ai Corinzi, capitolo 10, versetto 12. Speranza e timore devono dunque andare sempre insieme. Dove regnano si conquista la corona del cielo, dice San Giovanni Crisostomo. E ciò perché il timore non diminuisce la speranza, anzi l'aumenta. Ed ecco il meraviglioso insegnamento di San Francesco di Sales, con il quale per oggi ci fermiamo. Dice, fiducia in Dio e sfiducia in noi stessi sono come i piatti di una bilancia. Quando uno sale, l'altro scende. Più abbiamo sfiducia in noi stessi, più abbiamo fiducia in Dio e viceversa. Meraviglioso, non trovate? Nel prossimo video parleremo dei frutti della speranza. Nel frattempo vi prego di fare queste tre cose. Lasciate i vostri commenti, domande e suggerimenti. È importante per permetterci di migliorare. Condividete questo video sui vostri social network, Facebook, Instagram, Whatsapp, Twitter, TikTok, eccetera. È molto importante far conoscere l'opera del canale. Gli angeli sono con noi a quante più persone possibile. Infine ricordatevi che potete inserire le vostre intenzioni di messa andando sul sito www.giangelisonoconnoi.it oppure cliccando sul link che trovate in descrizione. Aiutatemi a far crescere questo apostolato per far rinascere nelle persone la speranza della felicità eterna e, prima di questa, la fede nelle promesse fatte dal nostro divino Salvatore. Che Dio vi benedica. Salvatore. Che Dio vi benedica. Salvatore. Che Dio vi benedica. Salvatore. Che Dio vi benedica.